motivo, ma è un qualcosa che noi possiamo gestire anche da un punto di vista logico. Il per sempre non esiste ovviamente, ma noi quando lo diciamo, lo diciamo perché dobbiamo darci una giustificazione, no? Attraverso questa parola io lo amo, noi riusciamo a giustificare anche le cose più nefaste, no? Quindi è ovvio che se tu ti lasci prendere dalle emozioni, ce l'hai nel culo, usando una terminologia oxfordiana, se tu dici, quando lo vedo mi tremano le gambe, ho mal di stomaco, mi aumenta il battito cardiaco, ho un turbine dentro di me, ho le farfalle nello stomaco, lo penso sempre, tutta la giornata, non c'è momento in cui non penso a lui, in che non penso a lei, sono disposto a rinunciare a tutto, alle mie amicizie, a tutto, e questo è la cosa peggiore, no? Che noi possiamo fare. Noi tendenzialmente dovremmo innamorarci delle persone che ci danno presenza, invece purtroppo proprio a seguito degli imprinting che noi abbiamo avuto, che molte persone hanno avuto, possiamo anche innamorarci di chi ci dà assenza fondamentalmente, possiamo anche innamorarci di persone totalmente negative, beh, questo lo dimostrano pluriergastolani, non so, valanzasca, autori di rapine, di omicidi, che ricevono in carcere lettere d'amore da sconosciute, no? Da persone che si sono innamorate, diciamo, di amore folle fondamentalmente, no? Perché l'amore se non è gestito, salutiamo anche Sabrina, se l'amore se non è gestito è folle, e quindi figurati, se ricevono lettere d'amore, gli ergastolani, figurati se non ti puoi innamorare di, se non ti puoi innamorare di una persona che non, che ti dà abbandono, che non ti carga, che vai, che viene, è perché il mascalzone, l'uomo è donna, è questo, vale sia per gli uomini che per le donne, la canaglia attira sempre di più, la canaglia attira, ma siamo noi che ci attiriamo, il rapinatore attira, perché, diciamo, spesso noi siamo attratti da persone che riescono in qualche modo a somministrarci delle forti tensioni emozionali, siamo attratti da persone che in qualche modo riescono a somministrarci emozioni che possono veramente trascendere, diciamo, ogni, come dire, ogni logica fondamentalmente, no? Veramente che possono trascendere ogni logica, anzi, andiamo contro la logica e quindi dobbiamo imparare quindi a non, imparare a gestire, no? Queste situazioni e quindi che cosa fare quando una persona, diciamo, ti dà abbandono? Intanto tenere presente questo, che il primo punto è che non dobbiamo farci scrupoli e non dobbiamo farci sensi di colpa, no? Perché è ovvio che se quello ti è d'abbandono e tu colpevolizzi te stesso o te stessa, beh, allora sei praticamente fottuto, sei praticamente fregato, no? Come? Io colpevolizzo me stesso o colpevolizzo, diciamo, una persona che non mi dà quello che voglio, colpevolizzo me, è come dire, mi do la colpa di qualcosa, salutiamo anche Tug, quindi questo è, eppure diciamo che ci sono tantissime persone che hanno purtroppo questa valenza, non hanno tendenza a viversi il senso di colpa, la tendenza a viversi il senso di colpa ce l'hanno le persone che non hanno, diciamo, un buon, che hanno vissuto in qualche modo il senso di colpa e tendono a riproporlo, tendono a riviverlo, tendono a manifestarlo in tutte le, in tutte le situazioni, no? In tutte le situazioni riescono sempre a trovare qualcosa di cui sentirsi colpevoli fondamentalmente. E invece bisogna tenere presente che il fatto di dire di no, come dicevo ad esempio Marilyn, è un punto importante, gli uomini impazziscono per le donne che sanno dire di no, che non sono immediatamente disponibili, quindi la prima cosa quando una persona si allontana che dovete fare è mantenere la calma, mantenere il sangue freddo e non agitarvi, perché l'agitazione, la paura, la preoccupazione non sono la strada per la soluzione dei problemi.